Buongiorno a tutti, io vi parlerò di un progetto Life, anch'esso di comunicazione che crediamo abbia diversi punti di contatto e diverse possibilità di collaborazione con LifeSeek2Seek per cui cercherò di illustrarvi queste possibilità e quindi insomma proporre collaborazioni. In realtà il progetto ASAP si occupa di specie aliene invasive e quindi per definizione siamo già tutti coinvolti perché le specie aliene sono definite come quelle specie portate dall'uomo in maniera accidentale o volontaria, quello dipende, fuori dalla propria area di origine e per cui diciamo il passaggio, la responsabilità umana è diretta ed è cesse. Dopodiché alcune diventano invasive, ovvero le specie aliene invasive sono definite come quelle specie sempre introdotte dall'uomo in aree diverse che causano rilevanti impatti negativi, in particolare sulla biodiversità ma anche su salute umana e attività economiche. Nel caso della CBD, dell'organizzazione della conferenza sulla biodiversità, l'accento è posto sempre e quasi esclusivamente sugli impatti negativi sulla biodiversità. L'introduzione degli impatti su salute umana e attività economiche sono stati introdotti con il regolamento nuovo a livello europeo e con un decreto che è stato ripreso da un decreto legge italiana di cui vi accennerò successivamente. Comunque insomma siamo noi sostanzialmente che abbiamo creato il problema. In realtà l'uomo le porta da sempre queste specie e ovviamente come vi dicevo non tutte sono dannose. Per darvi un'idea, a livello europeo sono circa 12.000 le specie aliene attualmente sul territorio e il 10-15% è invasivo, ovvero crea degli impatti negativi. Per cui le politiche internazionali e nazionali si concentrano ovviamente solo su quelle invasive e anzi in realtà su una piccola parte di quelle invasive. Perché sono un problema? Quali impatti crea? Non ve l'ho già accennato e qua vi porto alcuni dati. A livello globale sono la seconda causa di perdita di biodiversità. In Europa siamo alla terza. Per quanto riguarda le estinzioni animali conosciute è un fattore chiave quello della presenza dell'impatto della specie aliena per competizione o per predazione che sia per il 54% delle estinzioni animali conosciute. Però è ancora scarsissima la consapevolezza da parte della società di questo problema. Questo è un sondaggio dell'Aurobarometro del 2015 e si vede che alla domanda posta agli europei su secondo voi qual è la causa che minaccia di più la biodiversità in Europa le specialiane sono all'ultimo posto. Quindi, come vi dicevo invece, è la terza causa di perdita di biodiversità a livello europeo. Per cui ancora scarsissima consapevolezza su questa problematica. Un recentissimo rapporto indica che sono la prima causa di impatto nei siti patrimonio dell'umanità. E quindi, diciamo, la salvaguardia della biodiversità passa anche e a volte necessariamente attraverso il contrasto all'introduzione e alla diffusione di specie alieni invasive. Cittadino comune, ma insomma noi possiamo essere pescatori, cacciatori, veterinari piuttosto che commercianti, insomma, di animali anche esotici. Il ISPRA è beneficiario coordinatore. I nostri partner sono Federparchi perché ci sarà un'azione dedicata nelle aree protette e su questo, insomma, si potrà pensare di estendere e fare qualcosa anche insieme. Regione Lazio, Lega Ambiente, NEMO che è una società, insomma, specializzata sulle specialiane. L'Università di Cagliari per la parte di botanica, TIC che è una società di comunicazione perché ovviamente, insomma, ci servono esperti per comunicare al meglio. Anche questo progetto è stato cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e anche da quattro parchi nazionali, praticamente che prendono dal sud al nord. Come vi dicevo, gli obiettivi del progetto, innanzitutto, contribuire a una corretta implementazione del regolamento del decreto. Sono usciti questi nuovi due strumenti legislativi molto importanti. Il regolamento dal 2015, il decreto, diciamo, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo è di un mese fa perché è entrato in vigore il 14 febbraio del 2018 e sono, insomma, due strumenti molto importanti che hanno delle novità, che avranno delle ricadute in realtà anche su, per esempio, insomma, noi sabato stavamo parlando ai veterinari perché una serie di specie vengono regolamentate in queste leggi, tra cui, vi faccio un esempio, il TAMIA, il TAMIA è lo scogliattolino e chi è proprietario di, chi ha come animale d'affezione lo scogliattolino dovrà, con modalità molto semplice, ma dovrà denunciare il suo possesso entro breve. Quindi, insomma, ricadute veramente a tutti i livelli. Queste sono, è l'elenco di specie su cui si concentrano i regolamenti. Vi dicevo che la gestione di questo problema a livello mondiale, a livello europeo, a livello nazionale va per priorità, quindi ci si concentra sulle specie più dannose. L'Europa, attraverso un processo complesso, ha identificato le specie esotiche invasive cosiddette di rilevanza unionale, ovvero le più dannose per il territorio europeo. Ad agosto 2017, perché la lista è comunque dinamica, sono 49 le specie listate e in Italia ne abbiamo già 33. Quindi, su queste specie è necessario, insomma, sia... Da una parte sono scattati dei divieti piuttosto stringenti di introduzione, di commercio, di riproduzione, di allevamento e anche di detenzione, come vi dicevo, anche da parte dei privati, non solo degli enti pubblici. E, d'altro canto, su tutte queste specie presenti in ambiente naturale, sarà necessario che le regioni, le province autonome, i parchi nazionali, attuino delle misure di gestione attiva. Quindi, tutti quanti, insomma, dovranno specie molto diffuse e molto presenti, tra cui, appunto, trachemiscripta, che sostanzialmente è in ambiente naturale solo per rilasci da parte di persone che non avevano più voglia di tenersi, non pensavano che vivesse 40 anni e diventasse, insomma, mezzo metro di animale. A l'ibisacro, alla vespa vellutina, insomma, quindi altre specie che fanno parecchi danni, che però sono in fase espansiva e sono in fase di espansione, sono ancora localizzate. A specie ancora non arrivate, come il coati, e speriamo non arrivino mai. Cioè, su quello dobbiamo anche, diciamo, fare, attivarci per prevenirne l'introduzione. Sto parlando di presenze in ambiente naturale, quindi alcune specie, per questo stiamo dialogando con i veterinari, sono, magari non abbiamo la percezione, ma sono molto presenti nelle case degli italiani. Su alcune lo sappiamo, su altre no. Invasive e di incoraggiare l'adozione dei comportamenti responsabili. Sono usciti una serie di documenti, prima che uscissero questi regolamenti, di codici di condotta a livello europeo, tematici, per esempio su, appunto, i pet e le alieni invasive, piuttosto che la caccia, oppure i giardini botanici. Noi tradurremo questi codici anche in maniera molto sintetica e molto fruibile e cercheremo quindi di, insomma, quanto più possibile far adottare questi comportamenti a più persone, a più stakeholder possibili. Sono previste nove campagne di comunicazioni, ce ne sarà una, per esempio, si va da quelle, diciamo, più tecniche, quelle rivolte alle regioni e alle province autonome che dovranno, che sono, diciamo, gli attuatori delle misure di gestione e quindi dovranno, diciamo, farsi carico di una parte del regolamento a campagne nelle aree protette, per quanto riguarda i visitatori, ma anche il personale tecnico che deve, comunque, gestire il territorio. Andremo negli orti botanici, andremo negli zoo, andremo dai professionisti, magari dai veterinari a, per esempio, coloro che si occupano del verde, che devono scegliere quali specie, per esempio, mettere nei giardini delle città. Cercheremo, insomma, di andare da un po' da tutti. Ovviamente, detta così, è già fallito il progetto perché è impossibile andare da tutti. Quello che stiamo cercando di fare e che, diciamo, ci soddisfa finora come risposta è andare dalle associazioni di categoria direttamente. Quindi, appunto, vi dicevo, l'altro giorno eravamo dalla Società Italiana Veterinaria Animali Esotici che ha 600 soci in tutta Italia. Quindi, oppure abbiamo già una collaborazione con l'AMVE, la Società Nazionale degli Sportatori di Piante, insomma, di piante commerciali. Quindi, attraverso questo tipo di collaborazione e di coordinamento vogliamo arrivare a più persone possibili. Già sono state formate sostanzialmente più di 500 persone in tutta Italia che saranno quelli che noi consideriamo i moltiplicatori di conoscenza ovvero tutte quelle persone che lavorano in orti botanici, in zoo che sono a contatto quotidiano con il pubblico e quindi sono state formate su questa tematica, sulle problematiche in modo da, nei momenti proprio di incontro con il pubblico magari di visita all'Area Protetta piuttosto che allo zoo possano mettere l'accento anche sull'attenzione su questa la conoscerete bene subito dopo. E abbiamo in previsione almeno 12 bioblizzi in tutta Italia preceduti anche lì da delle giornate di recruitment in cui, cioè, che saranno un'altra occasione di contatto diretto con le persone e di, quindi, perché andremo nelle scuole nell'università per, appunto, reclutare queste persone e sarà un altro momento, ovviamente, di scambio. Cosa può fare ognuno di noi? Tanto, ovvero, appunto, innanzitutto essere attenti in tante cose, per esempio, è banale però non rilasciare mai specialiene nell'ambiente naturale. Questo è capitato, cioè, stava capitando anche a me in maniera totalmente involontaria perché ero andata in vacanza in un posto, ho chiuso la valigia, sono tornata a casa e c'avevo dentro una coccinella che nel Lazio non era ancora stata segnalata. L'ho subito vista, l'ho acciaccata. Però, perché lo sapevo, insomma, vabbè, è così. Però, insomma, da pescatori, pescatori sono un problema, cioè i pescatori per sport veramente stanno rilasciando qualsiasi cosa, insomma, nei nostri fiumi. E magari, insomma, ecco, gli appassionati acquariofi abbiamo scoperto che, io non ne avevo idea, però ci sono degli appassionati che fanno, magari si prendono delle specie, appunto, tropicali e fanno le prove in certe pozze termali naturali, nel Lazio, sì, fanno delle prove di riproduzione per vedere se qualche temperatura, però non nel loro acquario ma nelle pozze naturali, insomma. Quindi questo tipo di comportamento, cioè, secondo me, spesso è anche dovuto veramente all'ignoranza della problematica. Quindi, insomma, semplicemente comunicare. Ripeto, stiamo parlando di comunque andare a comunicare, diciamo, da una parte la problematica generale, che è importante, dall'altra, all'ultimo punto, perché una cosa che il cittadino può fare, ed è importante, è supportare la gestione delle specie più dannose, anche solo non contrastandola. Ovviamente, nel momento in cui si parla di specie aliena, invasive, si arriva al momento in cui si deve anche parlare di eradicazione di una specie, di prelievo e di soppressione di animali, in particolare delle piante, non c'è molto fermento, insomma, sulle piante in questo senso, però sugli animali sì. Anche lì, insomma, innanzitutto capire che si sta veramente lavorando su una fetta minima di quelle universalmente ormai definite invasive, perché ci sono dati scientifici importanti che confermano il loro impatto negativo su biodiversità, salute, piuttosto che economia. Anzi, no, ecco, quello che è importante dire, nel regolamento, tutte quelle specie sono state selezionate in base ai loro impatti sulla biodiversità, come vi dicevo. Nel caso in cui una specie abbia solo impatti sull'economia o abbia solo impatti sulla salute, non potrà mai entrare in lista. Se invece ha impatti sulla biodiversità e anche sugli altri due aspetti, allora è un rafforzativo. Però, diciamo, guida l'impatto sulla biodiversità. E questo, insomma, è un'altra cosa, secondo me, importante. Ritornando a quello che si può fare, nell'ambito di ASAP, ovviamente si potrà segnalare in maniera tempestivamente attraverso l'app la presenza di specie alieni invasive, perché, per esempio, possiamo fare un incrocio di dati, ma magari certe specie nelle regioni in cui andate non sono ancora state segnalate. E lì, per esempio, è un dato buono, perché ovviamente gli specialisti non hanno una copertura, insomma, del territorio al 100%. C'è il problema della validazione, però, insomma, in maniera studiata si può andare a collaborare in questo senso. E poi essere, nel momento in cui si entra in contatto con questa tematica o magari col progetto, essere, a sua volta, il cittadino può essere diffusore di informazioni corrette. Questo campo, perché le invasioni di specie alieni sono il risultato di azioni umane, e, anzi, non vi ho portato, mi sono dimenticata, non vi ho messo i dati, però è un fenomeno in continua crescita di cui non si vede ancora la saturazione. Quindi, insomma, la curva esponenziale di crescita è ancora in crescita in tutti i continenti e per tutti i gruppi. Ed è l'uomo che le porta, come ripeto. Quindi è essenziale cambiare i nostri comportamenti per poter effettivamente incidere. E quindi delle informazioni rigolose e il coinvolgimento di tutti i settori della società sono, secondo noi, la chiave per prevenirne di nuove e per ridurre gli impiatti di quelli già presenti. Credo che ci possa essere del lavoro da fare insieme. Grazie. Grazie.